Malgrado le dichiarazioni del Presidente Marsilio del Sindaco del Comune di Bussi che avevano annunciato l'inizio dei lavori di bonifica per il 1 ottobre 2022 a distanza di 10 mesi, la bonifica delle aree ex 2A e 2B non solo non è ancora stata avviata ma difficilmente partirà, considerate le evidenti difficoltà nella sottoscrizione del contratto con il soggetto privato aggiudicatario. Queste le considerazioni del PD e a confermarlo c'è un documento del MIT. Abbiamo fatto un accesso agli atti, il 16 giugno ci è arrivata la risposta del Ministero in cui ci dice che l'aggruppamento temporaneo di imprese che si chiama DECDEME non ha ancora prestato le garanzie fide e ussorie per sottoscrivere il contratto. Va precisato che dopo la sottoscrizione del contratto servirebbe un nuovo piano di caratterizzazione e poi un progetto esecutivo che dovrà essere ancora validato. Quindi stiamo parlando di tempi che si allungano a dismisura. Come si sta muovendo il governo Meloni per risolvere questo problema? Art Abruzzo comunica che il Sino continua ad avere alti valori di inquinamento. Dopo gli annunci trionfali prosegue Blasiole per nulla avveduti di un'imminente bonifica. Ebbene che Fratelli d'Italia e il partito che guida sia la regione che il governo nazionale ponga rimedio a questo pasticcio. Poi c'è un secondo aspetto che riguarda il risarcimento che la provincia di Pescara ha contratto con Edison che è il soggetto inquinatore. 3 milioni di euro. Non riusciamo a capire come è stata determinata questa cifra e soprattutto perché viene destinata a una scuola di Pescara che comunque è importante e invece non viene destinato al territorio che ha subito quell'inquinamento. 3 milioni di euro.